Buongiorno, o c'è da un milione e qualcuno è anche ganza. Cosa succede a una SERP se lo stesso prodotto lo chiami con nome diverso? Nella SERP organica ci possono essere differenze perché non sempre Google si accorge che di fatto si tratta di sinonimi. Ma questa cosa qui la si può usare in un modo molto ganso dentro Google Merchants, quindi dentro la parte organica delle piattaforme di Google, perché uno può caricare più feed, stesso prodotto, stesso GTIN, utilizzando servizi di shopping comparativo e quindi cambiare i titoli di fatto e la query che va a acchiappare. Questa è una cosa veramente ganza, mi incuriosisce un sacco. Google Analytics 4, perché c'è alla fine una guida che secondo me fa un bel riassuntino e è carina. Comprar domini scaduti, questa è una cosa molto molto bella che spesso si fa poco ma è divertente. Indicatore di prezzo in Google Shopping, quindi su Google Shopping uno potrà fare, cioè di fatto Google Shopping sta diventando un super mega e-commerce da sé quasi, no? Comunque te potrai selezionare la finestra di prezzo che ti interessa. Poi, Whatsapp, arriva chatbot e le automazioni, l'integrazione con le api, un mare di funzioni, leggetelo perché sicuramente sarà una cosa importantissima. Sempre su Whatsapp arrivano il catalogo e la possibilità di acquistare direttamente da lì dentro, anche quella super comoda. Scuola, ah questa è una cosa curiosa, tutti i bimbi a scuola hanno fatto un account Gmail di fatto, no? Per poter utilizzare la scuola che l'ha fatto. Quindi Google avrà in pasto un mare di dati dei bambini, è una cosa curiosa da capire. Poi, paginazione SEO, come utilizzare bene REL Next, oggi dei precati ma utili su altri motori di ricerca e Canonical, una guida che fa un po' un momento di riflessione. Facebook, entra nel gaming e si mettono a fare i giochini anche loro. Eh, questa è curiosa, Facebook ne sta facendo tante. Poi, Amazon Explore, viaggiare da casa. Questa è una cosa che non tanto per utilizzare quel servizio, ma per farci capire come un mondo sta cambiando. Cioè, si mettono a offrire la possibilità di viaggiare virtualmente da casa perché non viaggi più. Forse dobbiamo cominciare a pensare anche noi a qualcosa di simile per tutte le nostre attività che richiedevano una presenza fisica e quindi cercare di emulare al meglio, ma anche un museo, questa esperienza per chi comunque lì non ci può più venire o comunque con difficoltà. Poi, Svizzera, testano i voluti digitali. Altro segnale di un mondo che cambia, cioè il pagamento dalla cassa di carta sarà sempre più difficile. Google evidenzia le migliori offerte in shopping, appaiono dei pin che tipo ti fanno vedere questo super prezzo, conviene di più, quindi anche quello di molto interessante. Grano a prezzi record. Anche questo ti fa pensare in un mondo che dice cominciamo ad essere sicuri che il pane ci sia. Amazon, ah, questo è incredibile. Se carichi gli scontrini offline, cioè io vado da Amazon, gli dico, guarda, io questo mese ho fatto queste spese. Amazon mi paga. Perché? Perché vuole sapere le mie abitudini di acquisto anche fuori Amazon. Incredibile. Cioè, pensate alla quantità, alla fame di dati che hanno. 10 dollari per 10 scontrini, se non mi sbaglio. Leggetelo, interessantissimo. Amazon ha anticipato il suo Black Friday mettendo nel guai un sacco di gente. È una strategia che conviene, non conviene. Ora Amazon, credo, siano i primi vischeri, quindi vedrai se l'hanno fatto. Un motivo ci sarà. Però, se uno non era strutturato, per farlo in anticipo, è un po' nel casino. Enel, l'hanno baccato un'altra volta, gli hanno rubato 5 terabyte di dati, nostri. Google Shopping, il tracking del prezzo. Questa è una cosa ganzissima. Perché praticamente, io gli dico, l'avevo accennato velocissimamente l'altro ieri, gli dici, oh, quando il prezzo di questo prodotto cale, avvertimi. E ti mandano a me. Ti dici, oh, guarda, adesso ha esattamente il prezzo. Che volevi te, prego, compra. Mamma mia. Poi, packaging digitale. In un momento del genere, ma non in un momento del genere, da sempre si sa, lavorare bene di packaging con qualche ideina, non necessariamente fisica, che però può essere, cioè, quindi un packaging bellino, memorabile, che lo piego, lo rimonto e diventa un gioco per il bimbo, ma anche digitale. Quindi utilizzare bene un QR code o altre cose per far sì che questo packaging, insomma, rimanga e aumenti. Insomma, leggiamolo, è interessante. Dopodiché, enjoy, nella serp di Google. Mi stanno tanto simpatiche e può essere interessante questa lettura. E infine, come fa una tigre che è arancione a mimetizzarsi nella giungla verde con una mucca? La vede benissimo, che c'è una mucca, insomma, la sua preda. Come fa a non vederla? Perché tutti i mammiferi vedono con soltanto due proteine nella vista. Per una mucca, o comunque un cinghialetto, via dicendo, una tigre grigia a stescia. Perché noi tutti i mammiferi abbiamo una vista molto molto limitata. Soltanto alcuni primati hanno la terza proteina da vista, fra cui noi, che però è una modifica della seconda, quindi abbiamo una gamma di colori un pochino più ampia. E questo collo di bottiglio è dovuto al fatto che per un sacco di tempo i mammiferi sono stati sottoterra, di fatto. Infatti i teropodi, dinosauri e uccelli, hanno quattro proteine da vista e ci vedono alla stragrande. Quindi andate a leggere questa cosina, è molto curiosa la storia dell'evoluzione e la percezione dei colori. Quindi il mondo dei dinosauri era un mondo coloratissimo, perché loro vedono un sacco di colori più di noi. Un piccione, probabilmente, ha gli occhi di un altro uccello, è verde fosforescente. Siamo noi che non siamo, anzi, non ultravioletto sarà. Insomma, è una cosa molto divertente. Buona giornata. Ciao.